E' rottura tra i medici di base pugliesi e la regione Puglia. Pomo della discordia è la circolare indirizzata nelle scorse ore dall'ente di lungomare Nazario Sauro a tutte le ASL, con la quale si blocca l'utilizzo dei fondi disponibili per l'assunzione di personale negli studi. Una circolare incomprensibile, dicono dalla FIMG Puglia, che annuncia una manifestazione in piazza il prossimo primo aprile. La circolare, spiega Donato Monopoli, responsabile dei medici di base pugliesi, blocca in maniera arbitraria e incomprensibile fondi che consentirebbero a molti medici di medicina generale di assumere personali di studio. I fondi, spiegano ancora, erano stati stanziati dall'accordo del 2007 a favore di medici di medicina generale proprio per l'assunzione di personale e si libererebbero per il pensionamento di molti colleghi e potrebbero, dicono ancora, essere usati da altri medici già in graduatoria. In questo momento di grave difficoltà della categoria per la FIMG, la possibilità di assumere all'interno degli studi risorse umane per gestire il carico burocratico e amministrativo è di fondamentale importanza. Tant'è che nelle numerose richieste inviate a mezzolettere alla Regione, questo punto è sempre stato prioritario. Per questo la scelta operata dalla Giunta non è compresa, ma anzi viene considerata lesiva della categoria, già provata da condizioni e ritmi lavorativi, fanno notare, insostenibili, ma anche penalizzante per i pazienti che ne subiranno in ultima analisi le conseguenze. Quindi, dicono dalla FIMG, non si fanno passi avanti rispetto ai problemi più volte sollecitati, ma anzi si fanno passi indietro rispetto ad accordi pregressi, di cui la scelta di scendere in piazza il primo aprile.